ciao sono leonardo naso della lr immobiliare oggi vi presento un'ottima opportunità di investimento immobiliare in roma quartiere san paolo esattamente via tiberio imperatore in una zona fortemente condizionata dalla presenza da un lato della basilica di san paolo fuori le mura e dall'altro dalla presenza della università di roma 3 o chiamata altrimenti università marconi che sta influenzando positivamente il quartiere facendolo diventare uno dei più dinamici e attravervi della città di roma al suo interno l'immobile è composto da un ampio ingresso un soggiorno un corridoio una cucina abitabile servita da un piccolo balcone con affaccio interno due spaziose camere matrimoniali e a a a Grazie a tutti. Una terza camera doppia. Due bagni, entrambi con finestra. Ed un comodo ripostiglio. L'appartamento è dotato di grandi vetrate con affacci sul verde e sulla liacente chiesa santuario regina degli apostoli. L'immobile è principalmente esposto ad ovest con affaccio libero ed in parte ha un affaccio interno sul cordile condominiale. L'immobile è in uno stato di conservazione tale che richiede una completa ristrutturazione e può subire diverse trasformazioni come dalle planimetrie in sovrimpressione. Grazie a tutti. Abbiamo visitato un interessante appartamento di circa 125 metri quadri posto al sesto piano di una palazzina di 11 cani dotata di due ascensore e un buono stato di conservazione. L'appartamento è completamente da ristrutturare e può subire diverse trasformazioni. Grazie alla vicinanza dell'Università di Roma 3 può essere anche adibito ad appartamento per locazione e distanze a studenti. L'immobile è immediatamente disponibile ed ha un'ottima luminosità e risulta particolarmente silenzioso. Per vedere foto, video e planimetrie di questa interessante opportunità di investimento immobiliare puoi visitare il nostro sito www.lrmobiliariroma.it oppure tutti i nostri canali social. L'R Immobiliare è la tua casa. Buone mani.